Il programma che è stato sottoposto ai cittadini non è stato rispettato. Per questo i veri traditori del mandato popolare sono stati il sindaco di Andrea Giorgino e quanti lo hanno sostenuto e affiancato anche nel corso della conferenza stampa. È stato Antonio Nespoli, esponente di Forza Italia in Consiglio, a rispondere in questi termini alle accuse che sono state sferrate dal primo cittadino agli azzurri accusati di aver determinato la caduta anticipata dell'amministrazione comunale andriese. Penso che i veri traditori del mandato popolare siano il sindaco e chi lo circondava questa conferenza stampa perché il mandato popolare significa rispettare il programma che è stato sottoposto ai cittadini in virtù del quale si è raccolto un consenso. Ora, il programma che noi abbiamo sottoposto ai cittadini, potreste fare un sondaggio all'interno della città, non prevedeva di certo un aumento della tassazione smisurata così come è accaduto, non prevedeva certo un'invasione di strisce blu nella nostra città, non prevedeva certo l'aumento vertiginoso della retta all'asilo nido o dei buoni per la riflessione scolastica. Questo dovrebbero spiegare ai cittadini perché questo è stato fatto. Quello che gli esponenti di Forza Italia hanno denunciato da tempo è stata la totale mancanza di confronto e di ascolto. Noi abbiamo più volte suggerito l'adozione di misure tese a contenere invece la quasi vessazione nei confronti dei cittadini adottando misure di tagli della spesa sulla contrattualistica del Comune di Andra che potevano quindi farci contenere questi aumenti. Non siamo stati ascoltati. Per esempio ieri a una mia precisa domanda rivolta ai revisori dei conti è stato detto che loro non ne sapevano niente di una sentenza del Tar con il quale sono stati chiesti ai cittadini nel 2016 degli aumenti che non si potevano chiedere. E noi abbiamo posto dall'inizio questo problema di restituire queste somme che i cittadini hanno versato in eccesso. Non è stato mai preso in considerazione questa nostra richiesta. Per il sindaco Giorgino la scelta dei consiglieri di Forza Italia di esprimere voto contrario al bilancio di previsione finanziario è strettamente connessa ad una motivazione di carattere politico. pronta la replica dell'azzurro Antonio Nespoli. Il problema sarà politico, sarà politico per loro perché probabilmente per le aspirazioni del sindaco avevano bisogno di stare in sella, di utilizzare le leve del potere per utilizzare al meglio quei metodi di creazione del consenso che così tanto hanno sviluppato in questi ultimi tempi ivi compreso quest'ufficio che ha le nostre spalle.